io i tappeti non li chiamo più pezzotti ma li chiamo ruffoni quando mi chiedono che lavoro fai io faccio ruffoni perché è un prodotto unico e siamo la mia famiglia in quasi 100 anni di storia è arrivata a fare questo tipo di tappeti. Così no! all'inizio del novecento c'era a Morbegno l'unica tessitura nella provincia di Sondrio qui invece c'era la tessitura Bernasconi che proprio produceva tessuti lì ci lavorava il mio bisnonno ruffoni Silvio nel 1924 ci fu un incendio e la ditta sparì da Morbegno allora il signor dolci che faceva confezioni abiti così con l'aiuto del mio bisnonno che era meccanico in questa tessitura riuscire a recuperare i pezzi di telai pezzi dell'orditoio e crearono la prima industria del pezzotto valtellinese poi nel 35 mio nonno ruffoni Giuseppe mise in piedi la pezzotti ruffoni che tuttora sta ancora in piedi io sono il nipote Davide con mia moglie Valentina in questo laboratorio si trova tutti i brevetti ruffoni abbiamo visto prima la fettatrice questi sono telai costruiti da mio padre questo è un telaio che come vedete in legno può essere alcuni pezzi del diciottesimo secolo tranquillamente qui si lavoravano in tre persone per la battitura soprattutto qui invece abbiamo mio padre ha sostituito una ha messo una cassa battente in ferro anche lici in ferro e la battitura viene effettuata con la ricompressa qui vediamo in ordito tradizionale però poi si possono sostituire come vi faccio vedere questo è un telaio da due metri che è ancora in ordito tradizionale poi invece abbiamo il telaio in orditura di lino e mentre questo dalle mie spalle che poi vedremo che va finito va finito rimassaggio questo è in ordito di cotone più grosso che noi chiamiamo sudan perché negli anni 70 arriva dal sudan ecco adesso lo prendiamo Udine non solo dove arriva però è sempre puro cotone lì bisogna tornare ancora più indietro perché la rivoluzione industriale parliamo del diciottesimo secolo quando soprattutto si teseva la seta si teseva la seta perché qui c'è la via della seta passo a marco nelle valli nelle valli orobiche soprattutto cosa è successo che con la rivoluzione industriale con l'inizio delle prime fabbriche cioè prima c'era il baco si coltivava in pianura e poi tutti i paesi erano su sulle montagne perché anche qui ci sono state le bonifiche anche valtelline con la rivoluzione industriale ha iniziato a scendere a scendere e creare le fabbriche in pianura quindi i telai sono rimasti in usati quelli manuali la famiglia contadina c'ha da lavorare tutti i giorni però soprattutto d'inverno ha del tempo libero avendo il telaio in casa ha iniziato a utilizzare la lana di pecora il lino la canapa e a fare i filati e i tessuti hanno iniziato a fare coperte asciugamani le stoffe per mettere sulle sul dorso dell'asino anche da mettere sulle spalle quando portavano il gerlo con la legno con l'uva per alleviare un pochettino il fastidio così io io da piccolo dormito nei lenzuoli fa delle lenzuola fatte così e sono molto pruriginose e comunque ad agio ad agio all'inizio del novecento cosa hanno iniziato anche proprio a fare questo tipo di tappeto il pezzotto valterinese adesso che noi abbiamo preparato l'apertura già pronto per la lavorazione abbiamo iniziato il taftà e adesso partiamo con il nostro tappeto si prende la striscia che abbiamo affettato e con le mani si passa attraverso l'ordito si passa la trama questo è proprio l'inizio e questa la batti questa è la cimossa qui abbiamo inserito la nostra trama in cotone e questo qua come vedete è suddiviso perché lavorando su ordinazione si lavora sulla misura che richiede chi è mentre questo lì questo è lavorato in cimiglia completata la pezza si fa la battitura e lo scambio in modo che il tessuto possa continuare una volta al posto di questa manopola d'aria compressa c'erano i pedali che poi si potranno vedere sul telaio piccolo in legno se penso a quando ero piccolo io c'erano adesso il lavoratore è stato un po cambiato però c'erano due persone fisse che facevano questo lavoro tutto il giorno mio nonno aveva una decina di dipendenti anche i miei genitori fino all'85 lavoriamo ancora come una volta fibre naturali i nostri tappeti sono tutti pezzi unici mio papà Rufoni Silvi e mia mamma Pontigia Stefania hanno sempre cercato di migliorare la qualità hanno introdotto la lavorazione della cimiglia la lavorazione del velluto la lavorazione del lino e tuttora io e mia moglie siamo riusciti più o meno facciamo 30 35 tipi di tessuti diversi qui invece abbiamo l'orditoio che appunto l'ha recuperato mio bisnonno questo è un orditoio del diciottesimo secolo funzionava d'acqua e qui noi prepariamo il subio col filato di cotone prepari l'ordito per ogni tipo di telaio e io sono nato qui come dico sempre sono nato e imparato cioè lavoro di mio nonno il laboratorio qua l'ha costruito nel 54 io sono del 68 eravamo io mio fratello e mia sorella quindi i miei genitori lavoravano qua alle volte si stava qui anche a fare i compiti poi c'erano le mie prozie che lavoravano qua c'erano alcune operaie si facevano i compiti si stava qua ogni tanto si dava una mano c'era la nonna gli si dava una mano a scegliere i colori ecco quando dall'orditoio si mette il cotone l'ordito cioè tutto il cotone che abbiamo sull'orditoio viene trasferito sul subio poi il subio dall'orditoio viene portato qua sul telaio e a questo punto le due nastoline che dividevano i fili dispari e i fili pari vengono sostituite con queste due stecche di ferro o di legno dipende che tipo di telaio è e poi adesso sempre il filo dispari viene inserito nel licio che è questo queste sono le maglie nel licio posteriore e il filo pari nel licio anteriore in modo che così abbiamo sempre la nostra divisione dispari e pari e ci permette di tessere poi il nostro tappeto adesso cosa dobbiamo fare abbiamo inserito il nostro cotone il nostro ordito nei lici e nel pettine questa è la cassa battente questo qui è il pettine e dobbiamo attaccare l'ordito cioè la preparazione della pezza attaccare l'ordito al subio anteriore dove poi qui verrà avvolto il nostro ordito di cotone con l'inserimento della trama verrà avvolto il nostro tessuto lì io prendo l'ordito e lo annodo al subio anteriore può succedere che quando li avvolgi non ti sei accorto hai sbagliato hai lasciato magari una trama quando si fa la sorrapposizione della giunta magari lasciata troppo lunga ti prende dentro un filo ti strappa un pezzo di tappeto e te ne accorgi magari quando poi l'hai tolto no è lì ormai è andata ci sono dei tappeti che delle volte non hai voglia neanche di vendere ti vengono talmente bene che cioè dici questo no questo è mio questo lo tengo io però bisogna mangiare i tappeti sono in fibre naturali ma non sono buoni da mangiare questo è quando il tappeto poi è tolto dal telaio si lasciano un po' di un po' di ordito e si parte con la franzatura quindi la frangia non è altro che l'ordito annodato annodato così tiene fermo il tessuto se no già si aprirebbe col tempo la resibbiatura è togliere le imperfezioni cioè le imperfezioni le cose che come questi che avanzano fuori in modo che tutti questi filetti filetti filettini sono i nodi quando si cambia il colore questo è il nodo ruffone sto facendo un arazzo è la riproduzione dell'uomo selvatico che è un dipinto che si trova a sacco nella casa piccica del 1400 e qui l'ho fatto un pochettino tridimensionale utilizzando questo cotone rimane questo il corpo dell'uomo selvatico molto peloso qui c'è la clava la mano qui faccio vedere il nodo ruffoni questo è un telaio chiaramente riprodotto come telaio di una volta e qui c'è il nodo quando c'è il cambio di colore qui tolgo il pelucco in modo che rimanga proprio esterno se no anche le due le due stoffe sono di diversa qui si contano i fili per creare poi il disegno della clava e anche qui si contano i fili per creare la curvatura del braccio ok battitura e ritorniamo e siamo ai tappeti fili abbiamo questi tappeti come questo un misto marrone tranquillo lavorato in velluto sul velluto c'è il diritto e il rovescio il rovescio la parte opaca e invece il diritto la parte lucida qui abbiamo il tappeto in lana con un disegno tramonto con i gabbiani in volo e il sole che sta calando sul mare qui abbiamo un bellissimo tappeto in jeans per lavorarlo sono dovuto andare in sicilia a raccogliere la pietra pomice per lavare la lavatrice e ammorbidirlo queste sarebbero le onde del mare con le boe qua ci sono tante boe e tanti pedalò però un disegno sempre anche questo anni 80 questo disegno baroni famoso architetto visto che collaborazione con gli architetti artisti così abbiamo collaborato con nomi famosi cioè nomi famosi architetti famosi Aulenti, Sozzas, Baroni, Farina, Crosta eh beh di questo sono orgoglioso cioè orgoglioso sì contento perché è un lavoro che dà soddisfazione ecco quando vedi un cliente che poi ti ringrazia ti manda le foto dice stupendo o arriva anche a comprare il secondo perché è talmente soddisfatto ecco e poi anche vedere un tappeto finito che ti è venuto bene come pensi tu lo hai accostato i colori nel modo che ti dà un'emozione sempre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti